Ma qual è il videocorso che può fare per il caso mio, che può andare meglio per risolvere i miei problemi? Questo è un po' ciò che molte persone mi dicono, mi scrivono quando io sto vendendo i miei videocorsi. Perché il concetto è proprio questo, è quello, cos'è che posso fare di meno impegnativo e costoso possibile per risolvere brevemente e rapidamente i problemi che il mio cane mi crea? E io rimango un po' allibito di fronte a questo, perché se paragono quel piccolissimo sforzo che la gente vorrebbe fare per ottenere grandi risultati nella cinofilia, allora mi viene da pensare alle fatiche di Ercole che ho fatto io per riuscire ad ottenere così piccoli risultati con i cani. Allora, se voi vedete, io vi sto inquadrando queste due cucce dei cani. Premesso che stanotte qui ha gelato parecchio, finalmente adesso è uscito un po' di sole. La logica della mente umana direbbe che un cane che ha preso il freddo tutta la notte adesso vorrebbe cercare di prendersi in queste ore diurne, tutto il sole possibile, per scaldare le membra e prepararle di nuovo a questa notte. Invece non è vero, loro adesso sono usciti fuori, guardate, adesso sono già di nuovo andati uno nella sua postazione, perché sono arrivato io e loro pensano che io dia qualcosa a loro, magari da mangiare. Ma voi aveste visto, qui ne ho sei, erano tutti alla ricerca dell'ombra. E chi l'avrebbe mai detto? Quante volte? Sempre praticamente, stanotte, loro hanno delle pedane allo scoperto, hanno delle pedane al coperto e i miei due, nonostante siano vecchiotti, hanno dormito tutta la notte sulla pietra gelida in un freddo che mi fanno pena solo a vederle. Ma vi pubblicherò una foto stasera, dove quattro cucciole di quattro mesi hanno passato tutta la notte, non all'intemperie, però proprio al gelo. Qua c'è la luna piena, fa un freddo pazzesco, quando ho una casetta dove io gli ho messo i bancali, io gli do sempre tutte le possibilità. Il perché? E qual è il perché? E chi cazzo l'ha mai capito? Quindi io vi dico, vi voglio ancora dire una cosa, vedete quelle cucce che c'è lì? Io gliel'avevo fatte tutte belle, gliel'avevo fatto tutti i bordi di legno, perché qui è un posto dove specialmente di notte, adesso d'inverno arriva l'aria della montagna incredibile, gelida, muori alle mezzanotte. Non loro le hanno mangiate tutte. Laggiù dove io gli faccio dei ripari, loro li distruggono perché gli piace, vogliono proprio l'aria gelida, quella che fa morire a noi. Quindi io vi dico, io studio i cani da più di vent'anni seriamente, tutti i giorni sperimento qualcosa che ho studiato. Spesso ho a che fare con privati, ma quello è normale perché ognuno ha il suo lavoro. Ho a che fare con degli appassionati cinofili, ma tanti la passione della cinofilia li viene anche solo raccogliendo fotografie, catalogando video che poi si riguardano visti su YouTube, eccetera. Ognuno la svolge come meglio credi, altri misurano la testa dei cani, misurano gli arti, altri fan tirare il cane a una slitta quando si potrebbe usare, non so, un quad. Ognuno, rimanendo in quello che è consentito di leggere, ha una passione cinofila che l'esercita come meglio crede. Io che ho cercato sempre di concentrarmi sul comportamento del cane, che lo studio tutti i giorni, tante volte dico non ho capito una sega completamente. Tutti i libri che c'erano gli ho letti, i videocorsi ho visti il più possibile, sono andato da tutti gli esperti del mondo, di cani e di lupi. Sono andato a cercare i pastori in tutto il mondo, ho speso un patrimonio, tante volte non ho capito un caso. Quindi come si fa a dire qual è quel videocorso che servirebbe più al mio caso e spiegarmi tutto il caso? Ecco, guarda, questa è proprio la pillola, cioè hai mal di testa, questo cachet ti passa in tre secondi. Stamattina parlavo con un pastore perché fortunatamente pian piano riesco a convincere i pastori che prima di prendere i cani e metterli nei greggi devono studiare. Perlomeno se non studiano i miei cani non li avranno mai, possono fare altri percorsi, però quelli che ambiscono ad avere i miei cani devono studiare. E ne ho già parecchi che hanno fatto il videocorso, hanno fatto degli aggiornamenti e mi diceva, ma ho visto che fai sta promozione, ma tanti di questi video non mi servono a niente, se no li avrei presi volentieri, perché invece non mi dici qual è, magari un altro video che mi aiuti proprio nel mio caso specifico di cani antilupo e magari mi aiuti a migliorare le prestazioni dei miei cani. Ecco, come ha detto, mi aiuti a migliorare le prestazioni dei miei cani? Ho detto, guardalo qua. Proprio questo gli servirebbero tutti il mio videocorso di cinofilia naturale e altri di cani. Guarda, perché questo dato lui se lo dovrebbe già togliere dalla testa, che ci sia qualcosa che aiuti a migliorare le prestazioni di un cane da greggio e antilupo. Perché se no non giustificherebbe il fatto che in tutto il mondo i pastori brutalmente magari allevano cinque o sei cuccioli e poi ne tengono uno o due il migliore e gli altri qualche fine gliela fanno fare, a volte gli cedono anche solo, altre volte utilizzano dei sistemi più brutali. E questa è una storia che ci piace o no, una storia che dura decine di migliaia di anni. La pastorizia è almeno diecimila anni, altri migliaia di anni. Perché tante volte le persone dicono, io ho un cane da compagnia, lo porto ai giardinetti, ho comprato il suo video di cinofilia naturale, dico bene, però mi piacerebbe migliorare. Io rimango entusiasta perché quando le persone capiscono che anche se hanno un cane in appartamento dovrebbero applicare le regole della cinofilia naturale, io mi gaso e dico forse ce la possiamo fare. Riesco a rincoglionire la maggior parte dei proprietari di cani. Si deve fare pian piano. Ed è sempre la fiducia che infondo ai miei consulenti di dire, lo so che tutti sono contro, ma pian piano cambiano. Io una volta avevo contro tutti, adesso c'è un sacco di persone dalla mia parte, e in conseguenza se uno si impegna, lo fa con costanza, perseveranza, a volte addirittura resilienza, lo fa tutti i giorni, poi i risultati saltano fuori. E mi dicono questi privati, io che abito in un appartamento, ho visto il videocorso di cinofilia naturale, quale è che dovrei magari acquistare? Io dico loro, quello sui cani antilupo, questi dico sui cani antilupo, ma io né il lupo io i problemi, abito in città, né non avrò mai le pecore, io ne voglio dire che no, è proprio quello che ti serve. Perché è proprio da quelle sette ore del video sui cani antilupo, che tu potrai capire in realtà la natura per cosa l'ha fatto il cane, come se la cavano i cani quando invece possono vivere in questo sistema semilibero, semilibero, perché i cani da grece, specialmente nei paesi asiatici, sono loro che scelgono a quale grece appartenere. Tu capendo quello riuscirai a capire molto più facilmente quanto stai condizionando il tuo cane e tutto ciò che tu devi invece modificare. Quindi questo era per dirvi che le persone che sono titubanti a non prendere tutta la serie dei miei videocorsi fino a stasera perché dicono qualcuno non mi servirà. Ma questo è veramente tutto sbagliato. Io questo pastore dicevo il videocorso che a te serve è ad esempio il videocorso di Cineofilia Naturale, proprio perché fai il pastore, perché se capissi chi è il cane, indipendentemente da quale funzione tu lo voglia destinare, e tu hai capito un sacco di cose anche per il tuo lavoro, poi ti potrebbe servire ad esempio come selezionare il cane la guardia e sicurezza. E verrebbe da dire, ma come, io ho bisogno dei cani da gregge e invece lui mi sta proponendo il videocorso su come selezionare i cani la guardia e sicurezza. E certo, perché se io ti dico quali cuccioli tu devi vedere di trovare nella cucciolata e devi fare un punteggio attraverso tutta una serie di test che ti suggerisco in questo mio videocorso, tu basterà che quelli che io scarto dalla mia selezione, perché non vedono nell'essere umano un pericolo per la loro sopravvivenza, ecco tu li individuerai fra i tuoi cani, perché fra i tuoi cani, anche se sono cani da gregge, nasceranno cani che spontaneamente vedranno l'essere umano un pericolo per la loro sopravvivenza e quindi andranno contro i turisti, avrai un sacco di problemi, sprecherai energie per un anno o due, dopo dovrai dare il cane a qualcuno e così potrebbe valere per un sacco di altre informazioni utilissime che messe tutte insieme fanno il cinofilo. Un cinofilo è universale, non è che, per dire, se io mi specializzo sui cani da guardia e cani da presa e sono un pastore e saprò che tutte queste caratteristiche che cercano i cani, gli allevatori di cani da presa e i cani da caccia e non devo portarmela a casa nella selezione che faccio io quando scelgo dei cuccioli per il mio gregge. Quindi non esiste in niente, non capisco perché dovrebbe essere essa cinofilia, al di là di queste bagianate che dicono illusorie per farvi spendere quella volta quel qualcosina da mettersi qualcosa in tasca che vi possa preparare bene a risolvere un problema se non avete una conoscenza poliedrica. Quindi è il motivo per il quale vi dico questa opportunità che ormai scade fra meno di 12 ore potrebbe essere veramente una vostra grande opportunità, perché non c'è mai quella soluzione giusta per quel problema specifico, c'è la ricchezza di informazioni che voi riuscite ad acquisire in qualsiasi settore al quale voi vi affacciate che poi vi fa poi estrapolare la vostra esperienza pratica e teorica quella soluzione che vi serve in quel momento e risolverete un grande problema che magari ha un valore 10 volte di più ciò che avete investito nello studiare. Questa è l'ultima cosa che volevo dire, dopo fate quel che cacchio che vi pare, ok? Vi saluto tutti e vi auguro a tutti buona giornata. A presto! Grazie! Grazie!